La stazione Corse Però il numero è sulla lista nera delle fregata Industries Chiamatela MI5 e avvisateli della minaccia imminente Signori, cosa sappiamo? Niente di certo, la sicurezza nazionale sta interrogando dei sospetti Ma affiderei le indagini sulle minacce di grado 1 alla SAS Passatemi Air Force Signora, a quanto ho capito dei nemici sconosciuti aspettano un pacco Le stiamo inviando i potenziali punti d'accesso Faccia attenzione, non conosciamo la natura del carico Ricevuto, la squadra si sta preparando Saremo operativi entro un'ora Tranquilla signora, qualsiasi cosa hanno in mente, noi li fermeremo Comando, siamo online, colpire a vista Ricevuto, Bravo 6 Cercate dei camion al porto con la stritta Charity Worldwide Al momento riteniamo che siano i bersagli Strano modo di fare beneficenze I camion stanno lasciando il porto proprio ora Sappiamo cosa stanno trasportando Secondo le informazioni la consegna proviene da bersagli di grande valore oltre mare Attenzione, uno dei camion è ancora al porto Perché non facciamo vedere uno spectra e non lo spediamo in fondo all'oceano? Troppo visibile, Bravo 6 Per ora i Vultor vi forniscono copertura aerea C'è da bene, mettiamoci una pietra sopra il 1 Il FLIR rileva fonti di calore nei magazzini Dovrete scomperare con gli edifici prima di pensare al camion Noi andiamo al magazzino 1, Bravo 9 si occuperà dell'altro Comando, non abbiamo molto tempo di entrare in emersione Ricevuto, a tutte le squadre potete agire, la missione è iniziata Fuoco a volontà Forte, il magazzino è di fronte a noi Bass, tu fai la seconda passata Piccolo libero, muoversi Falta e 2 all'interno Cercate di non svegliarli Bravo 9, 2 dietro la porta Cercate di non svegliarli Cercate di non svegliarli Cercate di non svegliarli Stanza libera Sulle scale Movimento davanti Vero sprendi posizioni Ce ne sono altri dietro d'angolo Abbiamo stanza libera Bravo 6, qui si era 1, due nemici all'ultimo piano del vostro edificio, li puntiamo Fuoco Vediamo il trasterno sicuro Tutte le squadre autorizzate, andiamo A finestra RPC Salute Svegliarli Adesso Svegliarli 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 Grazie a tutti. 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 Lo scopo degli attacchi era minare le nostre difese e aprire la strada all'invasione Dobbiamo colpirli ora, con tutto quello che abbiamo Signore, abbiamo perso i contatti con la delegazione ad Hamburgo Metal 01, qui Overlord La vostra nuova destinazione è Hamburgo Dobbiamo liberare uno stagio di primo livello Chi è? Il vicepresidente Il vicepresidente